buongiorno amici ci rivediamo dopo una settimana e ho cambiato spot cambiato spot perché ci sono diverse situazioni intanto c'è il mare molto mosso oggi perciò non pescherò neanche a bigattini niente pesco con due canne oggi la prima la voglio subito far andare in acqua con con il paguro e nella seconda invece ho pensato bene di mettere due ami uno galleggiante con il pop up e uno bassa a terra galleggiate metterò in coreano e invece sotto alterno tra gambero e una corsa una volta uno una volta l'altra vediamo quello che succede va bene adesso sono qua sto montando le canne piano piano oggi sono da solo speriamo che vada tutto bene mi sembra la giornata prometta bene vediamo speriamo bene dai allora siccome è piccolino purtroppo ne devo fare due in uno ancora questo evvivo appena sgusciato vediamo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.